Siamo i primi in Italia come numero di defibrillatori posizionati sul territorio rispetto alla popolazione. È Arezzo la provincia più cardioprotetta d'Italia grazie ad un progetto partito ormai dieci anni fa e che nasceva dalla collaborazione della Fondazione Cesalpino con il Dipartimento di Emergenza e Urgenza e quello di Cardiologia dell'ospedale San Donato di Arezzo. Obiettivo principale del progetto fare in modo che tragedie come quella di Matteo, il ragazzo di 14 anni che nel 2013 morì per un arresto cardiaco in un campo di calcio in provincia di Siena, non accadano più. Noi abbiamo collocato circa 800 defibrillatori in tutta la provincia di Arezzo ma il dato più eclatante è quello delle persone che abbiamo formato per fare l'animazione cardiopulmonare. Sono più di 20.000 persone. Nel mondo dello sport sappiamo che ci sono degli obblighi normativi ma insomma erano obblighi che non tutti rispettavano. Come siamo messi? Sì, siamo messi bene perché ora noi abbiamo rifornito tante società sportive e ora con l'obbligo di legge praticamente tutti gli impianti sportivi sono dotati di questa apparecchiatura.